Ciao, sono Giacomo Bevilacqua, l'autore di Affanda Piace, e anche io sarò a Luca Comics & Games 2013, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, ovviamente allo stand Panini Comics in Padiglione San Martino. Al Padiglione San Martino. Sul Padiglione San Martino. Chi è da San Martino? C'è un'altra?